Buonasera a tutti, io mi chiamo Carlo Sibiglia, sono stato eletto in circospizione Campania 2 e sono un attivista alla Camera dei Deputati, mi scuso per il ritardo, sono andato un po' tardi perché questa mattina c'era un gazzepo ad Avellino perché siamo impegnati per le amministrative, per le elezioni amministrative, è una cosa a cui tengo moltissimo al pari dell'attività parlamentare, quindi purtroppo sono riuscito ad arrivare soltanto adesso. Cosa dirvi? Molte cose già avevano detto i miei oggi colleghi, ieri compagni di strada, compagni di gazzepo, compagni di banchetti, io quello che vedo è che purtroppo noi abbiamo, l'unica difficoltà forse che abbiamo è quella di renderci conto dove siamo andati a finire, il mio messaggio è quello di dirvi che quello che voi state facendo qui noi lo stiamo facendo lì, come li stanno dicendo anche i nostri colleghi. Io sono stato molto impegnato nell'attività della Commissione Affari Esteri che abbiamo costituito da poco e tra le cose che abbiamo fatto è stato quello di scrivere il discorso sulla questione dei marò, dei fucilieri di Marina che volgarmente non è. Uno di quei passaggi di cui vado particolarmente fiero e che ho tenuto moltissimo ad inserire nel discorso è la possibilità che purtroppo ci sia stato uno scambio di vite umane per un ricatto di una commessa di fin meccanica, perché praticamente è probabile che, così come abbiamo detto, ancora non ci è stata nessuna smentita, che i nostri marò siano stati costretti a tornare perché c'era una commessa in corso della fin meccanica attraverso la VAS di Livorno per 300 milioni di euro relativi all'acquisto di Siluria ad alta precisione. Quindi la sostanza delle cose è questa, noi siamo lì per svelare queste situazioni, per spiegare che PD e PDL sono la stessa cosa, quindi spero che qui oggi non parleremo della fiducia oppure già magari ne avete parlato, andiamo oltre. Qualche nota di colore ve la devo dire? Noi in questo momento non abbiamo ancora percepito nessuna retribuzione. Attualmente stiamo spendendo i nostri soldi, i nostri risparmi e io ho uno di quegli oneri più grandi che è quello di dormire con Sergio Puglia. L'onere è grande perché? Perché Sergio Puglia Puglia russa in una maniera indecorosa. Purtroppo. Russa in Dolby Surround. Quindi il problema è che il mio lavoro viene inficiato anche dal fatto che non dormo la notte. Vabbè, se io potrei dire più milioni di cose però penso che già vi abbiamo sintetizzato tutto, era giusto per lasciarvi con qualcosa di simpatico perché la fine della verità è che noi ci teniamo tanto e ci fa piacere che ci siamo piaciuti più.